benvenuti in questo nuovo video di assaggiamo cose con gabiro praticamente l'ospite di oggi è la cioccolata ai mirtilli ovviamente marca nuovi vabbè ormai la marca nuovi praticamente è pubblicizzata da me vedete extra fondente con mirtilli e granella di mandorle perfetto 70 per cento di cacao senza problemi apriamo non l'ho mai aperta quindi non mi potete dire oggi perlomeno non potete dire ma lei già aperta non l'ho mai aperta ma si apre ti prendo la prima volta che assaggio potete vedere dietro si presenta così si state notando perché modo quindi la videocamera mette a fuoco perché come sapete il microfono viene letto da computer tramite la scheda audio vabbè sto registrando col computer la webcam vedete mette a fuoco cioè senza problemi ovviamente c'è la stella questa acqua vabbè sta sempre la cioccolata in nuovi assaggiamo sì vabbè ci sono le mandorle perché qua sta proprio scritto con granella di mandorle però però i mirtilli madonna mia si sentono tantissimo è buonissima sta cioccolata cioè i mirtilli beh proprio si sentono ma non sono eccessivi cioè vabbè si sente che particolare oggi sono andato a fare la spesa con il mio padre l'ho visto e ho detto non ci ho mai fatto un video ma sai che ce la prendo sai che me ne frega perché tanto ho capito questi video piacciono e quindi beh visto che piacciono piace a me che tanto devo mangiare piacciono a voi non ho capito perché bo forse sarà per smr seguitemi su instagram mi raccomando assaggiamo un altro questa oggi finisce sicuro vabbè oggi per voi sarà ieri se andate a supermercato io vi consiglio se vedete questa ho altre tanto cioè le altre comunque comunque le vedete tramite sapete i miei video questa qua ve la consiglio tantissimo se vi piacciono i mirtilli io sinceramente cioè i mirtilli così non li ho mai mangiati però sono buoni cioè sono buoni niente se questo video vi è piaciuto io mi invito a mettere un bel mi piace commentate condividete iscrivetevi e attivate la campanella noi ci vediamo domani con un prossimo video e niente io me la vado a finire è questa c'è questo punto niente scherzi a parte niente scherzi a parte vabbè la scatola non la posso distruggere perché ci devo perché devo fare la copertina quindi la dovrò far vedere così ciao 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 Grazie a tutti